L'Officiale Ambiente è un'azienda che opera ormai da 16 anni nel recupero delle scorie e dei termolizzatori di rifiuti solidi urbani. La nostra attività è quella di recuperare e valorizzare queste scorie reintroducendoli nel ciclo industriale dell'edilizia. Produciamo una gamma di aggregati artificiali chiamata Matrix. Questo prodotto, la cosiddetta Matrix Family, si declina in una serie di granulometrie. Sono in pratica delle sabbie e delle ghe artificiali che possono essere efficacemente utilizzate da produttori finali anche di prestigio nel campo dell'edilizia. A tutti gli effetti in questi anni la maggior parte dei grandi produttori o di cemento o di materiali edili in Italia, i marchi più importanti, utilizzano Matrix. È interessante notare che la nuova edilizia sostenibile, che sia privata o che sia pubblica, valorizza l'uso del riciclato all'interno dei materiali edili. In tutti i progetti di certificazione LEED-BRIAM i nostri prodotti possono essere e sono stati efficacemente utilizzati, ma anche nell'ambito del Green Public Procurement e dei criteri ambientali minimi per l'edilizia, dove viene assolutamente valorizzato il contenuto riciclato certificato, come il nostro. È il nostro il primo aggregato riciclato artificiale EPID in Europa, sono correntemente utilizzati in tanti progetti in Italia. Tutte le informazioni sulla nostra azienda, le nostre attività e i nostri prodotti potete trovarle sul sito www.matrixoda.it